Gentili telespettatori, buona giornata. Anche il Sunday Time incorona il premier italiano come Meloni Style. A cosa si riferisce? Si riferisce all'immigrazione irregolare. La gestione dell'immigrazione irregolare. Proprio il punto conteso dalla magistratura italiana. Ma all'estero raccontano una storia differente. All'estero elogiano Giorgia Meloni mentre all'interno del paese assistiamo a quello che abbiamo tristemente visto purtroppo in questi giorni. Si prende ad esempio il Sunday Time che parla apertamente di Meloni Style, lo stile Meloni, uno stile ammirato, un punto di riferimento per esempio per il Regno Unito, sia per conservatori che laboristi. Ricordatevi che all'estero non c'è la destra che vuole far rispettare le leggi e quindi non far entrare le persone illegalmente, la sinistra che invece è a favore. All'estero destra e sinistra dicono la stessa identica cosa sul tema dell'immigrazione illegale. E illegale punto e basta non deve entrare nessuno. Pensano in tutta Europa destra e sinistra. Mentre in Italia abbiamo questa anomalia, credo che sia un'anomalia mondiale, abbiamo la destra che ragiona come tutte le altre destre europee, fare rispettare la legge. In Italia non entra nessuno in maniera illegale. Ma invece nel nostro paese abbiamo una sinistra che tenta di favorire l'immigrazione illegale, cioè fa favoreggiamento dell'immigrazione illegale, che è illegale, quindi è contro la legge, fiancheggia l'illegalità. Mentre come vi dicevo, conservatori e laboristi nel Regno Unito parlano di meloni style. E questo è proprio in prima pagina, per ragioni politiche interne. Il governo laborista guidato da Starmer sta seriamente prendendo in considerazione nell'adozione di accordi bilaterali con diversi paesi, sulla scia di quelli siglati tra Italia e Tunisia e Libia. Il governo laborista vuole dotarsi di una fitta rete di accordi in stile italiano con diversi paesi per aiutarli a fermare migliaia di migranti illegali in partenza. Tra i potenziali partner ci sarebbero il Kurdistan iracheno, la Turchia, il Vietnam, con l'obiettivo di siglare intese di cooperazione e sicurezza entro la fine dell'anno. Quello che sta facendo la Meloni con la Von der Leyen, con i paesi del Nord Africa. Tutto questo si sarebbe poi consolidato nell'incontro che c'è stato tra Meloni e Starmer proprio a Roma. Quindi anche la sinistra britannica guarda il modello Meloni. Paradossale pensare che invece in Italia fanno di tutto per favorire l'immigrazione illegale. Il quotidiano britannico, dice, l'attenzione dei lavoristi verso l'esperienza italiana si sarebbe consolidata dopo l'incontro a Roma a settembre tra Meloni e Starmer. Starmer durante il colloquio ha espresso l'intenzione di ridurre l'afflusso di migranti via mare proprio prendendo ad esempio le misure adottate dall'Italia. Ci sono incontrati a settembre, sottolinea il Sunday Time. I due leader hanno discusso i risultati ottenuti dal governo italiano. Un calo che oggi ha raggiunto il 67% degli arrivi fino ad oggi. Anche Frontex, l'Agenzia per le Frontiere dell'Unione Europea, conferma la riduzione del 67% di arrivi dal Nord Africa e da Malta nello stesso periodo. Così con questi risultati, dice il quotidiano Sunday Time, ci sarebbero gli accordi di cooperazione siglati dall'Italia con paesi chiave come Tunisia e Libia. Al centro del calo degli attraversamenti ci sono gli accordi finanziari con Tunisia e Libia, da dove la maggior parte delle persone parte per l'Europa. La collaborazione con questi paesi prevede investimenti mirati alla sicurezza delle frontiere e al rafforzamento delle loro guardie costiere. Una ricetta, un approccio combinato che funziona, che dà risultato, un modello da seguire, un modello da seguire in tutta Europa tranne che in Italia. A questo punto avete visto che metà Europa era interessata proprio al Meloni Style e la Meloni aveva parlato alla metà dei paesi europei proprio di come, e aveva fatto una sorta di classe, di spiegazione su come riuscire a diminuire l'immigrazione in arrivo illegale. Un'altra parte non ha risposto all'appello, non si è presentata perché alcuni paesi non volevano farsi dire da altri come fermare l'immigrazione. Quindi alcuni paesi non hanno partecipato a questa spiegazione della Meloni perché non volevano sentirsi superiori, non volevano sentirsi inferiori, cose di questo tipo. A questo punto vi racconto che, per esempio, Bersani a di martedì dice che Meloni e Salvini li definisce questa gentaglia qui. Ecco, vi ricordate la diatriba sulla manifestazione a Bologna poi attaccata da gruppi di estrema sinistra, non solo la manifestazione ma anche i poliziotti. Ma Pierluigi Bersani è sprezzante, leader storico di sinistra che sulla sette a di martedì ha sentenziato questa gentaglia qui nel momento in cui davanti a un luogo del genere, la stazione di Bologna, sfilano col passo dell'oca, con i canti del ventennio, dicono che non hanno visto le camicie nere. Ragazzi, siamo avanti con i lavori, come dire, qui dice che nessuno ha visto quelle camicie lì, ma in realtà ci sono state. Allora, io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra mezz'ora. Ricordatevi che poi c'è anche l'altro canale Teleitalia Seconda Rete, dove ci sono video di notizie, di politica, anche di fai-da-te. I video di Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete sono caricati sulla pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, si chiamava, oggi si chiama Luca Vincitore. Per motivi tecnici è stato cambiato il nome in Luca Vincitore. E lì trovate tutti questi video, sempre che non ci sia qualche censura da parte di Facebook, perché c'è ogni giorno. I video che trovate non censurati potete poi condividerli con chi volete. Arrivederci a tutti e grazie.